Piacere di stare con tutti voi, io sono Diana, non dimenticarlo mai ragazzi. Bene, questo giorno è molto importante per noi, chiamiamo la musica proprio perché esprime il senso di ogni cosa. Oggi avrete l'opportunità per farci conoscere le canzioni che vi piacciono di più. Non perdete tempo, chiamate, subito al 38 92 36 96 aspetto la vostra chiamata. Ciao, dimmi tutto. Ciao Diana, vorrei ascoltare anche se non trovi le parole di Elisa. Wow, belle canzone, come ti chiami e perché hai scelto proprio questa? Mi chiamo Ria, ho scelto questa canzone perché voglio dedicarla ai miei colleghi che in questo periodo stanno studiando troppo per gli esami. Forza ragazzi! Benissimo Ria! Allora, mandiamo subito in onda la canzone. Ciao ciao! Ciao! È pur sempre bellissima un'emozione con le cadute e tutto il male. Come una musica, come un dolore, lascia il suo segno e non si fa scordare. L'anima in ogni sua imperfezione ti fa cadere e rialzare. Seguire logiche senza ragione, prendere e andare nel nome. Anche se non trovi le parole, hai girato il mondo dentro un cuore intero. Nessuna replica, vuoto potere, mentre decidi se ti puoi fidare. Il tuo momento ti viene a cercare, vuoi solo credere, forse saltare. Come un elastico senza pensare, non c'è più tempo, forse fa male. Anche se non trovi le parole, hai girato il mondo dentro un cuore. Anche se non trovi le parole, hai girato il mondo dentro un cuore. Anche se non trovi le parole, hai girato il mondo dentro un cuore. Anche se non trovi le parole, hai girato il mondo dentro un cuore. Anche se non trovi le parole, hai girato il mondo dentro un cuore. Anche se non trovi le parole. Perché scrive come il mio stato d'animo attuale. Ah, ci dispiace per il tuo umore, ma accontentiamo. Subito la tua richiesta. Ciao ciao. Ciao. vola in mano una fotografia, più che a guardare solchi che le ha lasciato su di me, seduto sopra una realtà, cosa evidente e stupida, parole come sassi contro me. Dimmi perché le nostre mani ferme a quel momento, dimmi perché tutto vince a torno a questo tempo, resterò più fermo sopra il mondo ed aspetterò il tuo ritorno e quando sarai qui saremo sogni a te. Per tutto quello che farò, per tutto quello che già ho, la voglia di mandarti via, la voglia di vederti qui, mi interveniscono con me, ricordi di quei giorni che, ho messo e forse non li avrò con te. Dimmi perché le nostre mani ferme a quel momento, dimmi perché tutto vince a torno a questo tempo, resterò più fermo sopra il mondo ed aspetterò il tuo ritorno e quando sarai qui saremo sogni a te. Questa puntata finisce qui, ma vi raccomando, vi aspetto. alla prossima puntata. Ciao ciao! 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 Ciao ciao!